Allora, la faccio veloce? Siamo l'ipodromo di cavalli. Se lui poi, a un certo punto c'è uno che si è giocato tutto nella vita, cazzo, rimasta solo la casa, fa non sa su chi giocare, non sa cosa giocare, nel panico, ma che faccio? A un certo punto vede tutti i cavalli, c'è un cavallo che lo guarda e li fa... È il cavallo. Ma sì, è il cavallo. Lui va dal cavallo. Che faccio? È il cavallo. Cioè, punto su di te, è il cavallo. Ma sei sicuro? Cazzo, questo corre su. Tutto, tutto. Mi gioco tutto sul tre, tutto sul tre. Parte la corsa. E primo. Il tre è primo. Perzo. Ma come? Scende giù, va dal cavallo. È il cavallo. Festa di asterischi. Festa di asterischi. Solo asterischi, un party. Allora, fanno questa festa... Certo, ballano. Dai, beviamo una cosa. Dai, che figo qui. Troppo forte. Troppo figo. Dindosso, vai a aprire tu. Si, vado io. Sto riuscendo alla porta. Ok, vado io, vado io. Non ti preoccupare. Arrono. Un punto. Allora, l'asterisco fa... Scusa, ma non è per cattivera, neanche razzismo. È proprio... È proprio una festa, proprio solo asterischi. È il punto. Soppino, c'ho il gel. C'è un signore che fa un incidente gravissimo in moto in piena notte, per cui arriva al pronto soccorso, distrutto, ed è sul lettino. Arriva il medico, guarda la cartella clinica, dice, Bene, Matteo, sei andato a prostitute, hai pippato tutta la notte, non hai chiuso occhio, hai bevuto l'impossibile, ma vedrai che l'intervento andrà molto bene. Ma dottore, io non mi chiamo Matteo. Infatti, Matteo sono io. Grazie a tutti.